Qui non molleranno i sindaci, non molleranno i comitati, non molleranno i cittadini e continueremo la battaglia tutti insieme. No alla chiusura dell'ospedale di Popoli, lo hanno detto a gran voce con un sit-in davanti alla sede della regione Abruzzo a Pescara, i cittadini e i sindaci di 22 comuni della Valle Peligna, della Val Pescara e dell'Altopiano di Navelli, assieme ai rappresentanti del comitato che si batte per la salvaguardia del presidio ospedaliero. In ballo c'è il futuro del Santissima Trinità, segnato dall'applicazione del decreto Lorenzine destinato al declassamento. Al momento le speranze dei cittadini e dei rappresentanti politici locali sono legate da un lato all'emendamento al decreto terremoto presentato dal deputato PD Castricone per congelare l'applicazione del declassamento, dall'altro alla mozione di Forza Italia approvata all'unanimità in Commissione Sanità Regionale per impegnare il Presidente della Giunta e l'Assessore alla Sanità a distituire il tavolo tecnico per formulare una proposta tecnica di riorganizzazione dell'ospedale di popoli. Proposta che però i rappresentanti del comitato avanti tutta hanno già ideato e messo su carta in una legge regionale di iniziativa popolare che a breve verrà protocollata. Non è una proposta sterile, è una proposta che si basa su dei dati tecnici, sui deliberati stessi della regione e dei vari emendamenti che sono stati fatti. Popoli deve essere riembito di tutto ciò di cui è stato svuotato per ridimostrare che non è un ospedale da chiudere ma è un ospedale da salvaguardare. Il clima della manifestazione si è subito scaldato ed è stato tutt'altro che amichevole. I sindaci avrebbero voluto parlare con il Presidente D'Alfonso assente per altri impegni istituzionali. Alle 11 sono entrati in regione ed hanno atteso all'incirca mezz'ora l'arrivo del Vicepresidente Giovanni Lolli. Poi alle 11.35 la decisione di abbandonare la Sala Filomena degli Castelli e la delusione per non essere stati ricevuti che è stata manifestata così. Io penso che questo sarebbe stato un grande segno di rispetto nei confronti di quelle popolazioni che oggi stanno pagando un prezzo pesante perché noi veniamo penalizzati su tutti i fronti. La sanità pubblica va difesa a tutti i costi perché i nostri cittadini hanno gli stessi diritti dei cittadini della costa. Il problema della politica sanitaria nella Val Pescara è rappresentata anche dal rischio di ridimensionamento se non di chiusura ad esempio del distretto sanitario di Scafa. Il Vicepresidente Lolli è arrivato qualche minuto dopo l'uscita dal Palazzo della Regione rendendosi disponibile subito al confronto. Io vi voglio chiedere alla delegazione se vuole venire, io sto qua e l'incontro volentieri. Era alle 11. Scusate ma io stavo da un'altra parte. Però da parte dei cittadini, del comitato e dei sindaci c'è stato un secco no. Il nostro interlocutore, hanno ribadito, è e resta ad Alfonso. Con il Presidente l'appuntamento è stato fissato per il prossimo venerdì.